buon di buona gente sono luigi in arte lusio anzi professor lusio e benvenuti a questa nuova video lezione lo so ragazzi sono mancato per settimane settimane abbiate pazienza ragazzi ma sono giorni molto pieni sono sotto un evento importante alla quale devo partecipare chi mi segue su instagram saprà già di cosa parlo e in più ragazzi sto portando avanti uno studio attento su un argomento che voglio portare su questo canale proprio quest'anno per ovvi motivi spero che arriverà presto e niente quindi sono c'è guardate ragazzi vi dico solo questo sto scrivendo 3 4 script contemporaneamente allo stato attuale quindi vedete un po voi quindi io vabbè non voglio fare promesse per l'avvenire appena riesco a liberarmi appena riesco a portare a termine uno script voi sapete io lo creo e vi faccio la video lezione bene e con questo video in particolare do inizio ad un brevissimo ciclo di video lezioni che prima di tutto non so se saranno costanti comunque già vi dico che con questa saranno quattro e non so se saranno tutte quante in successione forse no non lo so devo vedere un poco come mi si mettono gli impegni e che avranno come nucleo centrale gli steward la casa reale di scozia che subentrò ai tudor nel regno inglese dopo la morte di elisabetta prima dal momento che abbiamo già avuto modo di parlare di elisabetta prima penso fosse anche giunto il momento di parlare anche degli steward comunque un poco come ciclo allora io in sé per sé lo voglio dedicare per stima e soprattutto per amicizia alla mia carissima amica e collega youtuber Ilaria Ciccarelli in arte Diana 92 4 che è una grande appassionata e soprattutto è una massima esperta della casata steward e se volete avere qualche approfondimento in più su di loro curiosità sui esponenti di questa casata regnante o su storie o personaggi ad essa legata vi rimando al suo canale in cui trovate un sacco di video dedicati a loro vi lascio vi lascio sempre il link qui giù in descrizione allora purtroppo non ho tempo per dedicare un'intera serie a loro almeno non nell'immediato e per cui per questa piccola serie ho deciso di concentrarmi su quattro figure storiche ad essa ad essa collegata due che mi sono state richieste e due che volevo fare perché perché sì perché sì perché mi andava mi sono piaciute le ho studiate ho detto dai voglio parlare di queste due figure ma ogni cosa a suo tempo saranno quindi quattro video e spero come sempre che possano interessarvi e piacervi anche perché uno di questi sarà pure a tema game of thron quindi si ritornerà nel nell'antro del nerd e cominciamo e cominciamo però partendo non dagli stewart ma da un'altra famiglia e da un altro regno oggi parliamo di maria di guisa la madre di maria stewart questo video poi mi è stato richiesto da nicolas su instagram che saluto ciao nicolas speriamo di riuscire a fare presto questa la live noi due insieme vediamo un poco come riusciamo ad organizzarci allora quindi sappiamo che lo scenario degli stewart prima della morte di elisabetta prima è in scozia ma per iniziare questa storia come si deve dobbiamo partire dalla francia dove la nostra maria di guisa la protagonista di questo video ebbe i natali ebbe i natali guardo appena ho appena detto una cosa che di solito una cosa che avrebbe detto la mia pro zia olga che dio l'abbia in gloria e che dio abbia in gloria le sue perle mannaggia ma perché si è fatta seppellire con le sue perle quelle perle potevano guadagnare una giaccia scusate i fatti fattarielli della mia famiglia bene allora avete presente quelle situazioni che di solito vediamo nei film e nelle serie tv ma che possono accadere anche nella vita reale quando diciamo quando proprio l'esempio più eclatante quando ad una donna incinta si rompono le acque nel luogo e nel momento meno adatti un po come accade a giovanna di castiglia o giovanna la pazza come più preferite che entrò in travaglio proprio nel bel mezzo di un ballo venne portata via di corsa dalla sala e portata in un lavatoio o addirittura secondo alcuni addirittura in un gabinetto e fu lì che partorì suo figlio carlo il futuro carlo quinto ad asburgo sacro romano imperatore sul regno del quale non tramonta mai il sole probabilmente lui nacque in un posto dove il sole batte poche volte scusate il gioco di parole la battutaccia disgustosa bene perché vi ho fatto questa premessa perché sembra che anche la protagonista della storia di oggi maria di guisa nacque in circostanze simili anche se non così estreme come quelle che vi ho appena raccontate su giovanna di castiglia e carlo quinto il 22 novembre del 1515 durante un viaggio alla duchessa antonia di borbone moglie del duca claudio primo di guisa si rupperò le acque e la donna che era la sua prima gravidanza trovò rifugio in una casa di contadini dove con l'aiuto di alcune donne del popolo diede alla luce la sua primogenita maria un inizio da romanzo per quella che sarà una lunghissima storia simile ad un romanzo e che vedrà protagoniste non solo l'appena nata maria di guisa ma anche un'altra maria ma ci arriveremo con calma maria nacque in seno ad una famiglia che proprio in questa fase storica stava scalando le vette della scala sociale alla corte di francia appunto i guisa un ramo cadetto della casata di lorena per cui i guisa potevano dirsi parenti della casa reale di francia di allora i valois la stessa madre di maria antonia era cugina del re di francia francesco primo ed era una borbone mentre suo padre claudio era stato compagno d'armi del re ed era stato da lui stesso elevato al rango di duca si era innescata un'inesorabile ascesa per la famiglia guisa che avrebbe avuto molte ripercussioni nei decenni a venire complice anche un certo je ne sais quoi che sembra essere nel dna di questa di questa famiglia che ben si sposerà con lo stesso magnetismo animale di tipo genetico presente in una gran in un'altra grande e nobile famiglia di cui parleremo tra pochissimo maria avrebbe preso non poche doti dai suoi genitori suo padre claudio oltre che essere un condottiero di una certa stoffa aveva anche una buona predisposizione agli affari di corte qualità che gli permisero di entrare nelle grazie di re francesco primo per il quale condusse varie azioni diplomatiche per l'europa e che gli permisero di inserire se stesso e la sua famiglia sempre più addentro agli affari di governo e ritagliandosi una posizione di primo piano nell'ambito dei gradi della famiglia reale sua perfetta controparte e nonché compagna di vita era sua moglie antonia di borbone cugina del re come già ho detto e che aveva le stesse doti del marito era dotata di ottime competenze di gestione degli affari della famiglia nonché di una notevole arguzia e intelligenza lei poi vi devo raccontare questo aneddoto che bellissimo allora aveva l'abitudine di tenere una bara fuori dalla porta della sua stanza da letto questo perché ci teneva a ricordare a se stessa che sebbene nobile di nascita lei rimaneva una comune mortale come ogni essere vivente e antonia di borbone morì alla veneranda età di 89 anni che per una donna di quell'epoca era non un record era molto di più ok e ha confermato che tenersi una bara in casa porta bene perché ti allunga la vita a quanto pare ok ok antonia di borbone antonia di borbone è ufficialmente il mio nuovo personaggio storico preferito stima immensa con questi bellissimi esempi di esseri umani che si ritrovava per genitore 1 e genitore 2 maria non poteva non essere da meno anche se visto un po il suo ruolo e la sua condizione per la prima parte della sua vita non ebbe la possibilità di mostrare quelle qualità che avrebbero caratterizzato la seconda parte della suddetta vita in quanto figlia femmina da lei non si chiedeva né più né meno di quello che si chiedeva a qualunque altra figlia femmina appartenente ad una nobile famiglia durante la sua infanzia maria che fu la prima di 12 figli fece un po da madre ai suoi fratelli e alle sue sorelle minori dimostrando una buona predisposizione alle cure materne predisposizione predisposizione che paradossalmente non avrebbe quasi mai potuto riversare su figli suoi ma sto rischiando di correre un po troppo comunque all'età di 18 anni nel 1534 maria venne fatta sposare al duca luigi di longviglia fu un matrimonio organizzato fu uno di quei matrimoni ma un matrimonio diciamo per interessi ma fu uno di quei matrimoni che fin da subito parvero essere stati ben organizzati perché tra i due giovani sposi scoccò subito una certa scintilla tanto che solo l'anno seguente la loro unione venne alietata dalla nascita di un figlio maschio sano e robusto che venne battezzato con lo stesso nome del re francesco che voi che voi potevate pensarci che in questa epoca potesse nascere una storia d'amore no nemmeno io nemmeno io ci credevo francamente e dal momento che deve è sempre esserci un rovescio della medaglia lo so sono crudele ma devo dirlo pensate che questa bella storia abbia avuto un lieto fine che l'unione tra maria e luigi sarebbe stata serena priva di scossoni una vita nella norma ovviamente no altrimenti non sarei qui a farci un video se le cose fossero andate in maniera serena e noiosamente tranquilla dopo soli tre anni di felice matrimonio nel 1537 luigi morì di malattia all'epoca maria era anche incinta per la seconda volta e per gettare sale su ferite ancora fresche il secondo genito chiamato col nome del padre morto morì a sua volta pochi mesi dopo la nascita la storia di maria di guisa pure potrebbe concludersi così se fosse stata semplicemente una nobildonna vedova come tante altre avrebbe potuto dedicarsi interamente al figlio e alla gestione del suo patrimonio fino alla sua maggiore età o avrebbe potuto contrarre un secondo matrimonio e in effetti fu quest'ultima evenienza su quest'ultima evenienza che si concentrarono gli interessi generali sì perché suo malgrado maria si ritrovò al centro di trattati d'alleanza europea sì nel gennaio del 1537 francesco primo diede in sposa la sua figlia più giovane maddalena al re di scozia giacomo quinto stewart anche questa unione sembrava essere destinata ad essere felice dal momento che giacomo e maddalena si erano piaciuti a prima vista purtroppo la sedicenne maddalena era tisica di conseguenza il clima rigido della scozia non poteva certo farle bene e come volevasi dimostrare pochi mesi dopo il suo arrivo in scozia le condizioni di salute di maddalena si aggravarono e la poverina morì prematuramente di conseguenza le trattative di alleanza furono di nuovo al punto di partenza francesco aveva un'altra figlia margherita ma per lei era già in trattative con carlo quinto per farla sposare con il figlio di quest'ultimo il futuro filippo secondo matrimonio che comunque non ci sarebbe mai adatto in porto ma non ci interessa quindi le attenzioni si spostarono su maria ancora in età da marito giovane e piacente e il fatto che avesse un figlio era la prova che non aveva problemi a procreare un erede in più la sua parentela con la casa reale francese a dispetto della sua famiglia d'appartenenza equivaleva ad un'alleanza vera e propria tra francia e scozia e ad essere dello stesso avviso era un altro protagonista della scena matrimoniale europea di quegli anni una nostra vecchia conoscenza ovvero quello scarto di un sottoprodotto della rete fognaria che fu enrico ottavo d'inghilterra che bello ritrovarmelo sempre tra i piedi dopo aver sepolto le sue prime tre povere disgraziate le povere tre mogli enrico all'epoca stava cercando la quarta povera disgraziata e volendo evitare che si stabilisse un'alleanza tra la vicina scozia di giacomo che era suo nipote in quanto figlio di sua sorella minore margherita e la francia alleanza che rischiava di strangolare l'inghilterra ebbene enrico si piazzò davanti tipo il tizio che salta la fila alle poste quello contro cui laggi tutte le bestemmie di una vita intera e si propose di sposare lui maria se davvero fosse riuscito veramente a sposare maria di guisa probabilmente si sarebbe anticipata una situazione che si sarebbe avuta solo con il suo con il suo sesto matrimonio con cedri in par dal momento che anche maria era una vedova quindi su di lei non c'erano non ci dovrebbero essere stati problemi di sorta su mancate consumazioni precedenti contratti matrimoniali assolutamente vabbè poi comunque enrico lo conosciamo sappiamo che tipo era se si fosse stancato di maria come probabilmente sarebbe successo ne avrebbe inventata qualunque per per divorziare vabbè già abbiamo già sappiamo a memoria sta storia lasciamo perdere ma all'epoca come già sappiamo enrico già si era fatto una certa fama prova ne è che maria di guisa sfoggiando la stessa arguzia di sua madre antonia a questa proposta di matrimonio rispose sì è vero ho il fisico robusto e adatto per procreare ma sfortunatamente ho il collo troppo piccolo e sottile e gradierei conservarmelo no aspetta potevo farlo bene bene enrico prendi e porta a casa alla fine quindi la spuntò giacomo che prese in moglie maria di guisa nel maggio del 1538 così la vita di maria cambiò drasticamente diventando la sposa di un re quindi regina in questo modo la famiglia guisa fece quel salto in avanti ulteriore che la consacrò ad una delle più influenti di francia purtroppo ci fu anche stavolta il rovescio della medaglia maria si vide costretta a dire addio a suo figlio francesco che non poté portare con sé in scozia lasciandolo quindi alle cure della nonna materna per certi versi anzi in maniera totale maria si dimostrò all'altezza del compito a cui era stata chiamata molto più di sua cugina la sfortunata e fragile maddalena reagì con una salute di ferro al clima rigido delle island scozzesi ebbe solo parole di elogio per la sua terra di adozione e per il popolo scozzese ed era prodiga di attenzioni per il marito giacomo penso che abbiate capito che maria era una campionessa di diplomazia perché se andiamo a spulciare le lettere che lei scrisse a sua madre in quel primo periodo quel primo periodo fu tutt'altro che facile e felice per lei a parte la forte nostalgia per la sua terra per la sua famiglia e soprattutto per suo figlio non era facile nemmeno la sua esistenza in scozia non solo era vista con molta diffidenza da parte degli scozzesi ma anche giacomo non è che fosse così propenso a trattarla con la stessa attenzione dimostrata alla sua prima moglie e visto che ci siamo parliamo un po di giacomo giacomo quinto steward uno dei sovrani più enigmatici e sfuggenti di tutta la dinastia steward una dinastia che ha visto sovrani regine principi e principesse tutti quanti dotati di una certa come già avevo detto per i guisa un certo genese qua un certo magnetismo animale un qualcosa che di particolare quasi di genetico che li rendeva molto sim più simili a creature di romanzo per la loro forte passionalità e per le loro particolarità e magari anche a volte eccentricità di certo non erano persone nella norma nel senso buono del termine appunto si può dire questo gli steward sembrano quasi usciti sembrano proprio i romanzi personaggi di un qualche romanzo scritto magari da walter scott mi verrebbe da dire questo come ha detto anche alla massei uno dei degli autori più che più si è dedicato a a reso conto della dinastia degli steward ma di lui parlerò in seguito anche nei soprattutto nei prossimi video bene andando avanti giacomo quinto steward è sicuramente come ho detto uno dei sovrani più enigmatici e sfuggenti di tutta la dinastia steward di lui ci è giunto davvero poco per ricostruirne la personalità diciamo c'è un doppio livello di lettura da una parte viene definito uno dei sovrani migliori della scozia un vero e proprio principe del popolo dall'altra invece è stato ritenuto il sovrano peggiore della scozia manco a dire che quest'ultima versione deriva dalla propaganda messa in circolazione dai nobili clan scozzesi da sempre abituati a fare il loro comodo per ottenere potere e ricchezze senza mai dover rendere conto di loro eventuali crimini i nobili scozzesi si ritrovarono in una situazione più scomoda quando il giovanissimo giacomo prese il potere per tutta la sua prima infanzia giacomo era stato in balia di di nobili che puntavano unicamente ad accrescere la loro influenza e il loro potere a suo discapito cosa che probabilmente lo segnò e al tempo stesso lo formò nella sua vita adulta infatti giacomo fu sempre un acerrimo nemico della nobiltà scozzese da lui vista come un ricettacolo di probabili ribelli e nemici e va detto che non aveva poi tutti i torti a pensarlo ebbe sempre la mano pesante quando si trattava di amministrare la giustizia e non fece mai sconti ai nobili cosa che gli alienò la fedeltà dei vari clan che per tutto il suo regno non fecero altro che remargli contro soprattutto per quanto riguardava i rapporti con la vicina inghilterra di enrico ottavo zio di giacomo in quanto fratello di sua madre margherita tudor il contrasto tra zio e nipote era stato evidente già nella breve contesa tra i due sulla mano di per ottenere la mano di maria di guisa e nel desiderio di giacomo di allearsi con la francia piuttosto che con l'inghilterra e qui si possono leggere le basi di quel focolaio che avrebbe portato alla catastrofe anni dopo di maria stewart la futura regina di scozia i contrasti tra giacomo e i nobili scozzesi portarono questi ultimi ad avvicinarsi sempre più all'inghilterra sempre meno cattolica e sempre più protestante aperte e chiuse virgolette favorendo quindi quel passaggio lento ma costante che avrebbe portato la scozia a diventare uno stato sempre più luterano grazie anche agli scambi commerciali che la scozia aveva con la germania protestante gli ingredienti sono gli stessi che abbiamo visto in inghilterra sincera fede religiosa da parte di alcuni unita agli interessi economici delle classi elevate potete ben comprendere quanto la situazione politica in scozia fosse molto incandescente e le cose non potevano che peggiorare per fortuna maria per quanto non avesse ricevuto un'educazione atta a prepararla a gestire un ruolo come quello di regina consorte di scozia dimostrò in quella prima fase e lo avrebbe dimostrato soprattutto dopo di avere proprio due spalle così ma non corriamo troppo per il momento maria si preoccupò di portare qualche miglioria importando alla corte scozzese alcune finezze prettamente francesi a livello di abbigliamento di arredamento di oggettistica alimenti orto frutticoli proprio come alcuni anni dopo avrebbe fatto caterina de medici portando in francia dei miglioramenti made in italy ma arriveremo anche a parlare di caterina de medici tranquilli più me piano piano ci arriveremo ma un problema pressante rimaneva quello degli eredi a giacomo occorreva avere un erede che potesse succedergli ma dopo un anno e mezzo che maria era in scozia non c'era ancora ombra di gravidanza cosa che allarmò non poco i suoi parenti guisa che puntavano tutto quanto sul sulla realizzazione del del ruolo di maria in quanto regina non solo regina consorte ma anche regina madre in scozia anche perché la cosa era abbastanza strana maria aveva dimostrato di essere perfettamente in grado di avere figli e lo stesso giacomo aveva numerosi figli illegittimi non sto scherzando ne aveva tantissimi quindi qualche voce abbastanza di parte iniziava un po a circolare tenete a mente questo dettaglio per fortuna alla fine del 1539 maria seppe di essere incinta e tra la gioia sia della scozia che della francia nel maggio dell'anno successivo maria diede alla luce un figlio maschio chiamato giacomo come il padre e solo un anno dopo nacque un secondo figlio chiamato roberto purtroppo questo trionfo fu di breve durata il piccolo roberto visse solo tre giorni e per uno strano scherzo del destino anche il primo genito giacomo seguì il fratellino nella tomba subito dopo senza avere nemmeno compiuto un anno di vita e qui ritornarono a circolare quelle voci avverse che videro questa duplice perdita come un segno del fatto che giacomo non era in grazia di dio anzi che veniva punito per i suoi peccati legacy per i peccati che aveva commesso contro i nobili scozzesi manco a dirlo queste voci venivano partorite proprio dai gruppi di nobili dissidenti e adesso anche luterani che remavano contro giacomo molto più probabilmente i due bambini morirono a causa di quella moria infantile che assicurava solo a pochi bambini di raggiungere l'età adulta anche se il poco tempo intercorso tra la morte dei due bambini fece pensare anche all'azione del veleno la situazione non poté che peggiorare su tutti i fronti la salute psicofisica di giacomo iniziò a declinare proprio con la morte dei due figli e ci si misero anche i problemi di confine con l'inghilterra di enrico ottavo nel 1542 si giunse allo scontro armato che segnò la sconfitta di giacomo nella battaglia di solway moss dove venne tradito da buona parte della nobiltà scozzese che gli voltò letteralmente le spalle e si mise dalla parte dell'inghilterra questo ennesimo tradimento si andrò a sommare a tutti gli altri dolori sulla schiena del giovane giacomo che per specificarlo all'epoca aveva solo 30 anni la sua salute declinò in maniera inaspettata senza che nessun medico potesse fare niente il colpo finale gli venne quando gli giunse la notizia che maria all'epoca incinta per la terza volta l'otto dicembre aveva dato alla luce una figlia femmina si dice che questa noticchia questa notizia giacomo disse con una femmina è iniziata con una femmina finirà che era un riferimento a colei che era stata la capostipite della dinastia stewart ovvero la principessa marjorie bruce figlia di re roberto primo di scozia che sposò walter stewart intendente di scozia e fu madre del primo re stewart di scozia roberto secondo nella mente di giacomo la nascita quindi di una figlia femmina proprio mentre la scozia era sull'orlo della guerra civile dovette apparire come la sua definitiva sconfitta e come la fine della sua dinastia per certi versi giacomo non ci prese anche se un grande cambiamento sarebbe avvenuto proprio con maria ma come ho già detto ci arriveremo fu però con questo pensiero di fine definitiva che giacomo quinto morì quattro giorni dopo la nascita di sua figlia non si sa a tutt'oggi non si sa con esattezza di cosa sia morto o comunque perché tutto lascerebbe pensare ad un malessere di tipo psicosomatico forse morì di crepacuore o semplicemente come molti storici dicono si lasciò semplicemente morire maria di guisa aveva all'epoca 27 anni era vedova per la seconda volta ed era madre di una regina ancora nella culla sì perché la bambina all'età di soli cinque giorni era a tutti gli effetti regina di scozia venne battezzata col nome di maria come sua madre e fu la futura ed era la futura maria stuart o maria stuarda per dirla l'italiana ovviamente si andò a formare un consiglio di reggenza ma fu una reggenza spaccata in due con una parte di nobili filo inglesi che ventilavano un'alleanza con l'inghilterra attraverso il matrimonio della regina neonata col figlio di enrico ottavo il principe edoardo all'epoca di soli cinque anni e c'era poi una parte del consiglio di reggenza più nazionalista che non voleva rischiare che la scozia venisse assorbita dall'inghilterra e per il momento maria di guisa nel suo ruolo di regina madre e regina vedova si pose dalla parte di questi ultimi anche perché francese di nascita e scozzese di adozione tutto voleva fare fuorché fare gli interessi dell'inghilterra ma ad avere la meglio per forza di cose fu il partito filo inglese anche perché si voleva porre subito fine alla guerra con l'inghilterra si giunse così ai trattati di pace di greenwich che prevedevano l'unione tra edoardo d'inghilterra e la piccola maria regina di scozia come segno di alleanza e di unione tra i due regni ma secondo più il volere di enrico ottavo che secondo i termini della pace la piccola maria doveva essere portata in inghilterra e cresciuta lì a questo punto maria di guisa si inalberò e disse che non avrebbe permesso alla figlia di andare in inghilterra per sposarsi prima del suo decimo anno e in questo fu appoggiata non solo dal partito nazionalista scozzese ma anche da buona parte del partito filo inglese che temeva di perdere con la piccola maria una preziosa pedina nel gioco di questa alleanza che era tutt'altro che solida diciamocelo e infatti ora e infatti puntini sospensivi ora cosa abbiamo imparato dalla serie di video lezioni sulle sei moglie di enrico ottavo fatti l'anno scorso vediamo se vi ricordate che una cosa sola non bisognava fare con enrico non bisognava contrariarlo se no erano dolori e infatti come volevasi dimostrare a questo rifiuto enrico riprese la sua invasione della scozia ebbe inizio quello che oggi viene tradizionalmente chiamato il brutale corteggiamento un conflitto che tra alti e bassi sarebbe durato per nove anni buoni in questo frangente maria di guisa dimostrò una competenza nella gestione degli affari di governo in una situazione di guerra che quasi sicuramente nessuno si aspettava da lei mentre il consiglio di reggenza andava avanti senza preoccuparsi degli effetti che la guerra stava avendo sulla scozia tanto il popolo iniziò a rivolgersi a maria per ottenere aiuti e assistenza soprattutto per coloro che si trovavano a fuggire da zone di guerra qui maria seppe dimostrare una sottile arte diplomatica da una parte dimostrò di sostenere interamente gli interessi della scozia ma al contempo non dimenticò le sue origini francesi e fece in modo di far coincidere le due cose dal momento che la scozia necessitava di un alleato potente per far fronte comune contro l'avanzare degli inglesi maria chiese aiuto alla sua natia francia e per rendere più solida a questa alleanza offrì la mano di sua figlia maria al neonato figlio primogenito del delfino di francia enrico il futuro re enrico secondo e di sua moglie l'italiana caterina de medici la presenza dell'esercito francese in terra scozzese contribuì a ribaltare le sorti della guerra che si mise a favore degli scozzesi e in più consolidò il potere di maria nel suo ruolo di regina madre e il suo peso decisionale all'interno del consiglio di reggenza in tutto questo preoccupata per la salvaguardia della figlia maria si costrinse a giungere ad una decisione estrema ovvero far fuggire la figlia dalla scozia assediata e mandarla in francia alla corte del neo re enrico secondo già aveva cercato di proteggere la vita di sua figlia che non solo era a rischio di rapimento ma addirittura si temeva che qualcuno potesse avvelenarla si ripeteva in forma ancora maggiore il dramma della separazione dai frutti del suo ventre una croce che maria fu costretta a portare per tutta la sua vita così nel 1548 a soli cinque anni la piccola maria stewart dovette lasciare la madre e il regno sul quale era stata chiamata a governare a soli pochi giorni di vita per dirigersi in quella che sarà la sua terra d'adozione affidata alle cure della famiglia materna in particolare a quel alle mani della matriarca la sempre forte e stramitica antonia di borbone e maria di guisa rimase in scozia a reggere se non di nome ma almeno di fatto il regno di sua figlia in attesa di un suo futuro ritorno in patria ecco come potete vedere una particolarità di maria di guisa fu il suo riuscire ad essere al tempo stesso vicina alla sua patria d'origine mantenendo una solida alleanza con la francia ma rimanendo comunque fedele alla scozia suo regno d'adozione non è una cosa che molte altre figure di sovrani stranieri sono riusciti a fare allo stesso modo di certo non in maniera facile ma in maniera come infatti non fu facile per maria di guisa ma se non altro lei portò avanti quest'impresa in maniera stabile per buona parte e infatti pur non essendo una vera e propria reggente non ancora almeno in quanto fautrice dell'alleanza con la francia che stava dando un sostegno non indifferente nel conflitto con l'inghilterra il ruolo di maria all'interno del consiglio di reggenza andò facendosi sempre più di rilievo col passare del tempo purtroppo il suo status la rendeva comunque in visa a buona parte della nobiltà scozzese sempre più luterana e sempre più avvezza a tutto ciò che è sempre più avversa a tutto ciò che fosse francese e soprattutto cattolico un cambiamento nella vita di maria avvenne nel 1550 quando ebbe fine il brutale corteggiamento il giovane re edoardo sesto molto più disposto a trattare in maniera diplomatica del suo dispotico padre scelse di siglare la pace con la scozia complice anche il fatto che ormai gli inglesi erano in rotta e maria dopo di ciò ebbe la possibilità anche di ritornare dopo ben 12 anni in francia principalmente per vedere di persona quanto stava crescendo sua figlia con la quale manteneva una corrispondenza costante ed affettuosa per rivedere suo figlio francesco e anche per discutere con i suoi parenti la linea politica da seguire in scozia dove si stava creando un terremoto di proporzioni estreme all'epoca non tanto prevedibile nei suoi effetti ma col senno di poi quel viaggio in francia fu forse l'ultimo vero periodo di gioia per maria di guisa dal momento che poté rivedere i suoi figli e la sua famiglia purtroppo le questioni politiche avvelenarono questo giorno altrimenti piacevole maria puntava ad ottenere la reggenza piena sulla scozia ma per ottenerla aveva bisogno di mezzi economici che attualmente le mancavano e che da parte loro né il re enrico secondo nei suoi fratelli di guisa avevano intenzione di darle alla fine a maria non restò che dire di nuovo addio alla francia e ai suoi figli forse non credeva neanche che sarebbe stato un addio definitivo ma già un triste episodio che caratterizzò la sua partenza parve gettare un'ombra su tutto suo figlio francesco che allora aveva solo 15 anni volle accompagnarla nel suo viaggio fino alla costa francese nonostante non stesse particolarmente bene a quanto pare il viaggio non fece che peggiorare le sue condizioni forse non così gravi all'inizio fatto sta che durante il viaggio francesco morì tra le braccia di sua madre che fu costretta a ritornare nella sua nuova patria col cuore gravido di dolore ma maria non si lasciò piegare da questo innesimo lutto e dimostrò tutto il suo carisma e le sue capacità governative non appena mise piede sul suolo britannico sì ho detto britannico giustamente non mi sono sbagliato perché invece di viaggiare direttamente fino in scozia scelse di sbarcare in inghilterra in segno di buona fede nei confronti del giovanissimo re edoardo sesto l'incontro col giovane re d'inghilterra segnò il trionfo definitivo di maria che confermò la pace ritrovata tra i due regni dovette di certo impressionare non poco il fatto che si trattasse di una vera e propria pace tra un re protestante e una regina cattolica e infatti rientrata in scozia maria si rimboccò le maniche e approfittando del fatto che il reggente il reggente in capo di al final che di colui che colui che era stato fino ad allora il vero reggente in scozia il conte di harran james emilton ebbene dal momento che quest'ultimo aveva scelto di abdicare alla sua carica fu lei a prendere il ruolo ufficiale di reggente del regno di scozia ma maria come abbiamo già detto sapeva come era la situazione in scozia e sapeva soprattutto quanto fosse fragile la sua presa sul regno e non dimenticava che lei doveva conservare la scozia per sua figlia il problema maggiore rimaneva quello dei protestanti che mal sopportavano non solo la presenza dei francesi dell'entourage di maria ma proprio la presenza di una che era donna francese e cattolica come loro reggente il maggior avversario di maria fu senza ombra di dubbio quel grandissimo esempio di esaltazione fondamentalismo che fu john knox una delle figure più sgradevoli di quest'epoca allora per farvi un'idea di chi era john knox prendete tutti i luoghi comuni negativi che si possono avere sulle sulla religione tutti quanti prendete di tutti ecco li troverete tutti quanti nella figura di john knox era un bigotto della peggior specie un misogino come pochi era quel tipo di riformatore luterano che dava per scontato che tutto il mondo tutto quanto il mondo era condannato all'inferno con la sola eccezione di se stesso ovviamente lui era l'unico che poteva andare in paradiso già certo john knox poi era un convinto sostenitore di quel modo di pensare che riteneva che una donna posta in posizione di potere quindi proprio una donna che diventava che cingeva la corona di un regno era un abominio di fronte a dio manco a dire però che la sola eccezione agli occhi del signor coerenza john knox era elisabetta prima alla quale lui non mancò mai di leccare il culo in una maniera vergognosa e giustamente elisabetta che scema non era che aveva la vista lunga lo schifava come la merda quindi per questo motivo maria era perennemente vittima dei sermoni al vetriolo di knox ma maria invece di reagire col pugno di ferro a questa situazione scelse la strada che ritenne politicamente più giusta e accorta ovvero mantenere la pace tra le fedi una scelta che sconvolse tutti quanti non solo i sovrani cattolici ma anche quelli protestanti che non si aspettavano un comportamento del genere anzi addirittura i fratelli di i fratelli di di maria che erano che il duca carlo di guisa e il cardinale di lorena che ricoprivano in francia un ruolo di primaria importanza all'interno del consiglio della corona rimproverarono più e più volte questa mollezza femminile da parte della sorella nel gestire la situazione dei dei rapporti tra le due fedi in scozia infatti durante il periodo della sua reggenza venne mantenuto un ferreo seppur precario clima di tolleranza la speranza molto utopica va detto di maria era quella di fare in modo che fede cattolica e fede protestante potessero convivere in maniera pacifica almeno in nome di quella base di cristianesimo che avevano in comune purtroppo in questo modo di pensare di maria era troppo in anticipo sui tempi c'è anche da dire che lei non ragionava in termini di fede ma in termini di stabilità politica e sociale come avrebbero poi fatto in seguito altre altre sovrane lo abbiamo già visto con elisabetta prima in inghilterra e lo vedremo anche in seguito con caterina de medici in francia paradossalmente con questa sua politica di tolleranza maria risultava molto più ostica ai suoi avversari che avrebbero trovato molto più facile se si fosse trattato di una fondamentalista cattolica come maria prima tudor cosa che maria di guisa non era per non rendere troppo pericolante la sua situazione in più maria scelse saggiamente di farsi affiancare nel governo non solo dai suoi consiglieri francesi ma anche da uno scelto gruppo di rappresentanti scozzesi e protestanti tra i quali spiccava james stewart conte di moray figlio illegittimo di suo marito il defunto re giacomo quinto probabilmente quest'ultima scelta venne fatta soprattutto col senno di poi per lasciare a sua figlia maria un futuro alleato per quanto per quando sarebbe giunto il momento per lei di prendere il suo posto come legittima sovrana di scozia ma del rapporto tra maria stewart e il suo fratellastro james parleremo nel prossimo video maria di guisa governò la scozia dal 1554 al 1560 e l'ultimo anno fu costellato da una ripresa della guerra con l'inghilterra nello stesso anno salì al trono elisabetta prima e ciò diede nuova spinta al partito protestante scozzese che pensò fosse giunto il momento per deporre la reggente la reggente francese e cattolica ma maria non si sarebbe arresa senza combattere anche se in questo frangente fece forse l'errore più grave della sua carriera di regina disconobbe elisabetta come legittima sovrana d'inghilterra in quanto figlia bastarda di enrico ottavo e dichiarò apertamente che era sua figlia maria la legittima sovrana al trono inglese in quanto pronipote legittima di enrico ottavo questa dichiarazione avrebbe segnato in futuro anche il destino di sua figlia ripresero quindi gli ultimi fuochi della guerra e stavolta maria si ritrovò in netta minoranza tanto che fu costretta a rifugiarsi nella fortezza di edimburgo protetta solo dai suoi soldati francesi e assediata da i protestanti scozzesi alleatisi con l'inghilterra di elisabetta prima ma ormai maria non aveva più la forza di combattere già dall'anno prima le si erano presentati i sintomi dell'idropisia una malattia che causa il gonfiore del corpo a causa dell'accumulo di liquidi interni e ha partito tutto da un gonfiore alla gamba alla fine l'idropisia si espanse fino all'addome il 10 giugno del 1560 all'età di 44 anni maria di guisa morì per timore che il suo corpo venisse oltraggiato dai protestanti che avevano preso possesso della scozia la sua corte francese portò via la sua salma chiusa in una bara di notte e venne portata in francia affinché potesse trovare il riposo eterno nella sua terra d'origine nonostante lei da ormai molto tempo avesse smesso di essere francese per diventare una vera sovrana scozzese l'esatto opposto di quanto sarebbe avvenuto con sua figlia maria stewart che pianse sinceramente sua madre nonostante fosse vissuta con lei perso per così poco tempo la morte di maria di guisa venne festeggiata dall'intero partito protestante scozzese oltre che dall'inghilterra non tanto perché si fosse mai dimostrata a loro avversa abbiamo già visto anzi che fu sempre molto tollerante e disposta a lavorare per la pace e probabilmente fu proprio per questo che maria era sempre stata particolarmente odiata non solo era donna non solo era francese non solo era cattolica ma era anche una corta politicante che invece di darsi agli intrighi come si faceva in tutta europa preferiva mettere aveva preferito mettere il suo ingegno a disposizione della pace e da che mondo è mondo chi opera per la pace è più odiato di chi briga per fare la guerra perché spinge questi ultimi a guardarsi in uno specchio in cui sono costretti a vedersi per ciò che sono realmente maria di guisa aveva cercato fino alla fine di preservare una scozia in pace solida e stabile per sua figlia purtroppo alla fine tutto l'era sfuggito di mano e dopo di lei maria stewart si sarebbe trovata ad affrontare una situazione più grande di lei ma di maria di questa storia parleremo nel prossimo nella prossima video lezione e concludo qui la storia di maria di guisa allora per questo video mi sono basato principalmente su maria stewart la tragedia di una regina di antonia fraser dove si racconta per certi versi per buona parte la storia di maria di guisa e il suo impegno come sovrana reggente in scozia bene ma di questo volume poi ne parlerò più approfonditamente quando nel prossimo video vi parlerò in maniera più approfondita proprio di maria stewart intanto vi anticipo che questo è secondo me una una delle opere migliori scritte una delle opere migliori scritti dalla fraser un'opera monumentale un bel tomo che nonostante abbia la sua belletà infatti mi è stata e risale al al 1900 e del 1969 è invecchiata benissimo è ancora molto molto attuale bene purtroppo non sono riuscito a trovare molto altro su maria di guisa che risulta essere a tutt'oggi purtroppo un personaggio abbastanza secondario e poco trattata nonostante come abbiamo visto sia molto interessante come tutti i personaggi che andrebbero riscoperti per quanto riguarda poi la cultura generale anche qui su di lei non è che ho trovato molto a livello di romanzi viene citata con viene citata non compare neanche nel l'amante della regina vergine di philippa gregory forse il libro peggiore che sia mai stato scritto dalla gregory e per quanto riguarda la filmografia anche nei film non è che viene molto rappresentata compare nel film elisabeth del 1998 dove è interpretata da fanny ardent e dal momento che i film su elisabeth con kate blanchett sono di stampo prettamente anticattolico qui maria di guisa viene rappresentata come una guerra fondaia una quasi una sanguinaria e con quasi come una sanguinaria e c'è da dire che sia in questo film che nel romanzo l'amante della regina vergine si dice viene proposta l'ipotesi che la viene proposta che come la narrazione la la l'ipotesi che maria non sia morta di morte naturale ma sia stata avvelenata da agenti inglesi addirittura nel film elisabeth si lascia intendere che sia stata uccisa con un abito avvelenato in realtà queste voci sul fatto che sia stata avvelenata sono sono tutte roba recentissima sono tutta frutto di di film e di romanzi in realtà anzi la morte di maria di guisa all'epoca fu una delle morti che venne dato per scopo per certo che fosse naturale anche perché l'idropisia ebbe un decorso lento e naturale si vide fin da subito gli effetti della malattia che l'aveva colpita che ebbe un decorso molto lento e molto doloroso per lei quindi fu evidente che non ci fu veleno nella sua morte e poi per ritornare alla cultura generale maria di guisa compare anche in in quel grande cumulo di niente totale di non so che cosa che è la serie tv regna la serie su maria stewart dove compare anche maria di guisa interpretata da emi brandman purtroppo allora io regna l'ho visto solo fino al fate conto ragazzi io l'ho visto fino a quando ma allora francis muore maria rima mary stewart rimane ancora alla corte di francia per non per fare non so che cosa poi a un certo punto se ne torna in scozia ecco poi anna popolowell che è la susana dei film di narnia viene decapita che compare anche in questa serie viene decapitata da elisabetta ecco sì più o meno ho smesso di vederla con la quando hanno decapitato la regina susana la gentile scusate per me rimane sempre la regina susana di narnia ecco l'ho visto fino a quel momento là quando susana susana quando il personaggio di interpretato da anna popolowell viene decapitato e basta ho smesso di vederlo lì non ho non ho avuto modo di vedere come continuava e poi per il resto l'ho comunque dimenticato molto dimenticato certi passaggi non mi ricordo che ruolo aveva maria di guisa in questa serie so che veniva mostrata a lei che andava in francia a trovare la figlia però non era il viaggio che lei fece quando maria era ancora piccola vabbè ragazzi che tutto un casino la 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 cronologia in regne non non esiste proprio è totale è una creatura mitologica la cronologia storica in quella serie tv che vabbè non vuole essere una serie storica però il problema è che come serie tv non sa nemmeno cosa essere un vol non vuole non è una serie tv storica però vuole essere storica non è una serie tv vuole essere pretende mettere degli elementi sovrannaturali e fantasy però non sa essere una serie tv fantasy fino alla fine molte storyline che vengono che sembrano nascere però vengono abortite sul nascere non si capisce niente quindi io ho obbligato talmente obbligato completamente tutto quello che ho visto in regno compreso il ruolo di di maria di guisa all'interno di questa serie tv che però se non mi è rimasta impressa voleva dire che aveva proprio un ruolo parecchio marginale poi non lo so se qualcuno di voi magari mi vuole fare per mi vuole rinfrescare la memoria me lo può scrivere giù nei commenti se avete visto regno e vi ricordate che ruolo aveva maria di guisa magari me lo me lo fate sapere qui nei commenti sarei veramente curioso perché ve lo confesso non ho la forza di prenderlo in mano di rivederlo di continuarlo non ho la forza di fare niente magari spenderò qualche altra parola per regno quando parlerò di maria di maria stewart anche se già so che sarà un video estremamente lungo quello su maria di stewart perché avrò tante cose di cui parlare non lo so vediamo come andrà a finire bene io intanto concludo qua il video spero che vi sia piaciuto lasciatemi un like se così è stato e commentate ditemi la vostra se anche voi conoscevate la figura di maria di guisa se invece non la conoscevate o la conoscevate soltanto in maniera molto risicata oppure ditemi voi se sapete qualche dettaglio in più sulla sua vita sbizzarretevi giù nei commenti iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video mettete mi piace alla mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video che sarà il video dedicato a maria stewart o maria stuarda come dirsi voglia e dal vostro lusio è tutto e ciao ciao